Evento 2021 concluso con successo. Per noi settembre è il mese della rinascita, come gennaio, quindi ogni anno le nostre donne sono abituate a ricevere e appunto a partecipare ai nostri eventi. Quest'anno è stato strepitoso e particolare, non è stato appunto, essendo un numero ampio, abbiamo deciso di farlo in due giornate. Le fortunate appunto che hanno partecipato hanno ricevuto l'invito fino a casa, quindi è stato veramente emozionante e molto bello. Cosa abbiamo presentato? Prima di comunicarlo insomma all'esterno noi ci prendiamo del tempo da dedicare proprio a loro, a porte chiuse. Circa quattro mesi fa abbiamo inserito quattro nuove apparecchiature, essendo che siamo un centro di estetica avanzata, quindi è delle apparecchiature sia corpo che per il viso, ma adesso a settembre abbiamo dato la novità che stanno per entrare due nuove apparecchiature, una per il corpo e una corpo e viso. Ovviamente anche qui le apparecchiature non possono scegliere dei trattamenti preconfezionati, perché da noi non è possibile, ma viene stabilito se il corpo può accettarlo, se è adatto per quell'inestetismo, per quella cliente, in che periodo dobbiamo inserirle, ma comunque le abbiamo presentate, è stato un successo. In più abbiamo preparato un trattamento edizione limitata, per non parlare del regale e tanto altro. Ma adesso non mi voglio focalizzare più sulle apparecchiature, che per noi è un'abitudine a far entrare nuove tecnologie, ma voglio parlarvi di un'apparecchiatura che, diciamo, la stavo cercando da anni. Se noi ci occupiamo di estetica avanzata, noi avevamo una luce pulsata, un'apparecchiatura che ci dava delle grandi soddisfazioni, ma il mercato ovviamente andava avanti ed è nato il laser. Il laser abbiamo cercato, li abbiamo provati, ma non erano quelli adatti alle nostre esigenze, proprio perché noi lavoriamo per risultato e a me non piaceva quello che ti offriva. E quindi mi sono soffermata alla luce pulsata, fino a quando è arrivata una novità, cercando, 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 io ho trovato un laser che potesse soddisfare le esigenze mie, ma soprattutto delle mie clienti. E quindi a breve arriverà il laser, sempre a diodo, ma 3.0. Posso dirlo che sarò l'unica in Sicilia ad averlo, quindi sono molto contenta di questa apparecchiatura, e a breve sta arrivando. Anche qui ci sarà il mio metodo, non mi focalizzo solo sulla seduta, ma verrà creato un protocollo. Non aggiungo altro perché non voglio farvi perdere la sorpresa, ma vi voglio informare che stiamo già prendendo gli appuntamenti anche per le diagnosi. Come ci potete contattare? Potete contattare Marzia, la nostra coordinatrice, allo 0932 246 085, oppure al 327 5631975. Io vi saluto e vi aspetto in istituto. A presto, ciao! A presto, ciao!